Pensano ad una Pesaro come città modello europeo di comunità sostenibile e puntano sul supporto convinto alla candidatura sindaco di Andrea Biancani per trovare il percorso più credibile nel realizzare un programma elettorale fondato su sostenibilità ambientale e sociale. A 20 anni dalla sua nascita la lista civica Il Faro si è affrancata da gruppo di rappresentanza della sola tutela del Parco San Bartolo, che resta comunque luogo centrale dell'attenzione, per dare una visione globale all'intera città dal centro alle periferie. Una trentina i candidati al Consiglio Comunale trasversali a più competenze, molti dei quali intervenuti oggi nella presentazione in municipio. Da personalità centrali nella gestione del Parco come Iolanda Filippini, Davide Manenti e Stefano Mariani, passando per Michele Albergamo, Enzo Rao, Bernando Gili, Stefano Donnini, Lario Crudelini, Michele Belfiore, Furio Silvi e l'ex assessora all'ambiente Aidi Morotti. L'ambiente soprattutto, le energie rinnovabili, la riduzione della plastica, quindi tutte quelle politiche che sono molto chiare in questo momento e che hanno degli obiettivi precisi, che possono aiutare a sistemare l'ambiente, a dare una mano e a migliorare quello che è l'ambiente, le emissioni, i rifiuti, la gestione un pochino in generale di tutte queste tematiche che in questo momento hanno qualche difficoltà e un pochino zoppicano. Sostenibilità ambientale, che come ricordato dall'ex presidente del Parco Davide Manenti, passa per un concreto piano di manutenzioni e per il favore al progetto di una discarica necessaria al fine del ciclo dei rifiuti. Dall'ambiente all'ascolto dei territori, all'inclusione sociale, fino alla promozione dei centri estivi. Bisogna lavorare moltissimo sui giovani, sia dal punto di vista della sensibilizzazione che dal punto di vista dell'educazione e della cultura. Quindi vanno sostenuti, vanno dove ci sono delle difficoltà e vanno coinvolti invece in tutte quelle cose virtuose che possono fare. Un ascolto sicuramente molto attento alle zone periferiche perché anche i borghi non subiscono lo spopolamento ma ritrovino un fiorire perché lì ci sono anche tantissime opportunità al giorno d'oggi, anche come bed and breakfast, altre attività che possono beneficiare e che quindi devono trovare un territorio fertile per poter proliferare, per potersi impiantare. Non ultimo, tornando al discorso dell'ascolto dei territori, anche seguendo un po' quelle che erano i messaggi e i discorsi di Don Gaudiano, è molto importante assimilare all'assessorato alla gentilezza che già c'è nel Comune di Pesaro, l'assessorato alla pace, dove pace è presa nel suo termine più ampio e che tratterà quindi di tutti quegli argomenti che sono l'inclusione, l'ascolto, l'accoglienza, il disagio in tutte le sue forme. Quindi ascoltare e provare a fare tutto quello che si può per alleviare tutti quelli che sono i disagi dei cittadini.